Ciao, sono il Mandaloriano. Anch'io mi unisco alla causa di Trattoria Sportiva per togliere il numero 10 dalla schiena di Melegoni. Ciao a tutti da Trattoria Sportiva. Qui con noi oggi c'era il Mandaloriano che anche lui ha visto la partita e ha assistito al disastro, il ennesimo disastro del Genoa. Ma prima di iniziare, anzi ringraziamo il Mandaloriano per il messaggio inviato a Melegoni, ma prima di iniziare a commentare la partita vi ricordiamo di lasciare qualche like e di iscrivervi al canale. Cerchiamo di arrivare a 600, siamo fermi a 5,95 per favore, cerchiamo di arrivare a 600. Detto questo, partiamo con la tragedia. Tragedia, tragedia di non tanto del Genoa, ma di tutte e due le squadre. Veramente due squadre, una partita che sì, il Milan ha vinto 2-0, ma se fosse finita 0-0 penso che nessuno poteva protestare e dire di qua su giù. Il Milan ha creato poco e niente e il Genoa ancora meno. Il primo gol del Milan è arrivato da una cross da tre quarti, dove Efti incredibilmente si è fatto anticipare da Leao. Non so, ha visto partire il cross invece di guardare il pallone. A scuola a calcio insegnano che tu non devi guardare il pallone, ma devi guardare l'avversario. Probabilmente a Efti non gliel'hanno insegnato, o perlomeno, se l'hai dimenticato con il Milan, perché nella precedente partita ha sempre giocato bene. È vero che Leao è sicuramente un giocatore molto veloce, però il cross arrivava da tre quarti. Forse magari un po' più di intelligenza ha servito. Poi Leao ha fatto un grandissimo gol perché l'ha piazzata benissimo. Anche lì bastava forse sbilanciarlo. Niente, 1-0 dopo un niente incredibile, perché comunque non è che sia stata una partita all'inizio molto frenetica. Dove le due squadre non si sono studiate per niente, ma hanno cominciato a correre e a sbagliare in continuazione pallone su pallone, passaggi semplici. Non c'era nessuna delle due squadre che riusciva a controllare il pallone. Poi arriva questo gol e figurati, noi non riusciamo a segnare un gol, figurati se riesci addirittura ad andare a pareggiare a San Siro e cercare addirittura il sorpasto. Lasciamo perdere. Piccoli un disastro, oggi proprio non correva, sempre anticipato, leggeva sempre le palle in modo sbagliato, eccetera, eccetera. Poi, secondo tempo, sempre sulla falsa riga del primo, poche azioni del Genoa, anche con le sostituzioni, che poi andiamo a commentare le sostituzioni. E poi nel finale, vabbè, arriva al 2-0, boh, forse c'è un tocco di mano, di spalla, vabbè. Poco, poco, poca differenza fa. Andiamo a fomontare una cosa un po' particolare. Nel senso che, allora, io parto dall'inizio. L'effetto Blessing è finito. L'effetto Blessing è durato 8 partite, dove abbiamo pareggiato troppo, e dove abbiamo buttato via la salvezza. Non è a San Siro che dovevi vincere per salvarti, ma era in casa con l'Empoli che dovevi vincere, in casa con l'Udinese dovevi vincere con la Salernitana in casa. Quindi adesso non siamo a recriminare su una sconfitta a Milano, perché a Milano si gioca lo Scudetto, anche se delle tre che si stanno giocando lo Scudetto, forse è quella che gioca peggio, però è concreta, nel senso che fa due azioni, ma quelle due azioni le mette dentro. Ma vabbè, a parte questo, a parte parlare del Milan, che non compete a noi, il Genoa ha buttato via la salvezza molto prima. Adesso non è che andiamo a dire dovevamo vincere a Milano. No, dovevamo vincere in casa con la Salernitana, non dovevamo vincere in casa con l'Empoli. Sono quelle le partite dove ti giocavi la salvezza, non certo col Milan, ma a parte quello, e a parte dire che l'effetto Blessing è finito, e abbiamo un problema Blessing, però. Un problema Blessing che probabilmente non sa più che pesci prendere, perché se andiamo a vedere, allora io in live l'ho detto, Piccoli sta facendo poco e niente, era anche servito male, tutto quello che volete, e Kuban, anche lui poco servito, ma qualcosa faceva, e Amiri era l'unico dietro a queste due punte che riusciva a fare gioco. Io in live l'ho detto, sei sotto di 1-0, togli Frendu, perché comunque non stava giocando granché bene, metti Yeboah, e provi un quarto d'ora con Ekuban, Piccoli, Yeboah, e dietro Amiri. O se no, l'altra ipotesi era, tolgo Frendu, metto destro, gioco con Piccoli e destro, arretro Amiri, un po' più indietro, arretro Amiri, e metto sulla tre quarti Ekuban, oppure sposto Ekuban sull'esterno, Amiri lo metto un po' più sull'esterno, provare, per cercare di provare di smuovere qualcosa, e invece qualcuno ha pensato di far peggio. Esce Piccoli ed entra destro, e vabbè, lì, questa idea ci può stare, ma arriva il disastro. Esce Ekuban, che è vero che non è che abbia fatto un partitone, ma entra Melegoni. 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 Sì, avete capito bene, Melegoni. L'unico dieci al mondo che se bisognerebbe stracciargli la maglia e dargli dei calci nel culo. Un disastro da appena entrato fino alla fine partita un disastro. Per fortuna che poi non gliel'hanno più passata la parola, perché hanno capito che tanto non è capace. Un disastro. Un disastro. E poi, altro cambio, toglie Amiri e mette Gudmson. Cioè, allora, siamo tornati ai livelli di Shechenko. Spiace dirlo, spiace dirlo, però, io sinceramente sono stufo di un paraculo o comunque di un allenatore che continua a dire grandi tifosi, grandi di qua, grandi di qui, grandi di su, arriva allo stadio, eeeh, eeeh, basta. Basta. Incomincia ad allenare. Incomincia a fare il tuo mestiere. Perché, eeeh, adesso, hai fatto degli ottimi risultati, nel senso che hai rimesso in corsa il Genoa, ma nel momento che dovevi dare lo strappo, hai fatto solo che danni, sbagliando i cambi, sbagliando formazioni, e sbagliando in continuazione. Perché adesso, con tutto il bene che vuoi, con la partita non giocata benissimo, dai, ecco, eccetera, ma io me le goni. Ma me le goni, ma neanche sotto tortura, metto in campo me le goni. Ma piuttosto metto in campo Portanova, se non ha problemi di test, eccetera, eccetera, per altre cose. Ma mai mi sognerei, ma neanche se mi pagano, metto in campo me le goni. Cioè, ma che si continua a fare il talebano e a voler far giocare me le goni. Ma basta, basta. Cioè, fai passare la voglia. Cioè, quando ho visto me le goni, non ci ho più visto. Cioè, ma io vengo, ti aspetto dal porto di Arenda. Cioè, a me mi devi dare una spiegazione, una spiegazione, perché sta giocando me le goni. ma per quale assurdo motivo. Ma perché me le goni? Perché me le goni? Ma no, ma porca puttana, ma non c'hai altro che me le goni, quella cazzo di panchia? Ma cosa avrà fatto mai sto ragazzo? Ma che cazzo? Senti, sei innamorato di me le goni? Ma portatelo, ma non so, andate in vacanza assieme, ma non rompere il cazzo in campo. Per favore, basta, me le goni, basta. Oggi è stato un disastro, è entrato, ha sbagliato tutto. Quello che potete sbagliare, l'ha sbagliato. Non corre. Non si sa come mai, ma non corre. Cioè, alto, lungo, non corre. Non ci sa dare di testa. Quando prende la palla, testa bassa e non riesce a fare un passaggio di un metro. Tirare, e lasciamo la, lasciamo qualcun altro, perché ha fatto un tiro, è andata dall'altra parte, nello stadio. Ma basta, ma perché? Cioè, io vorrei capire, cioè, io adesso fossi un giornalista, con tutto rispetto, la prima domanda che gli farei a Blessing sarebbe per quale, perché hai tolto Dest, Piccoli ed Ecuban per mettere Destro e Mergoni? Cioè, quale idea, perché tu togli piccoli e metti Destro, va bene, ci può stare, non ci sta, ma ci può stare. Ma non capisco la sostituzione di Mergoni Ecuban. Cioè, Mergoni non è capaco a farlo esterno, Mergoni non salta l'uomo neanche se lo spingi. Ma con quale assurda idea? Cioè, veramente, mi piacerebbe veramente fare questa domanda a Blessing e capire quale strumento tattico era quello di inserire Mergoni al posto di Ecuban. Perché? Ma non perché Ecuban stesse giocando bene, per carità, Ecuban non stava giocando bene per niente. Ma non Mergoni non ce lo metto. Ma non ce lo metto. Ma metto Yeboah piuttosto di Mergoni. Perché non metto Yeboah al posto di Ecuban? Io non lo so. Poi va bene, tanto anche Yeboah, ma non penso che abbia visto tra palle. Non poi va bene, ha giocato Bani, dai neri. Lasciamo stare. ripeto, non era a Milano che dovevi vincere, era a Verona che dovevi vincere, ma comunque porterà a casa un punto. La situazione era drammatica prima ed è drammatica, è rimasta drammatica adesso. La salvezza ogni partita che passa è sempre più difficile, soprattutto perché immagino che domani, vedendo già le convocazioni del Sassuolo, che magicamente Berardi con l'Atalanta aveva quel problema alla caviglia, ha giocato quasi tutta la partita, col Cagliari, caso strano non viene convocato, vabbè abbiamo già capito come finirà Sassuolo-Cagliari e direi che lì sabato, già domani, con la vittoria del Cagliari sul Sassuolo perché succederà questo, è finita la zona salvezza perché tu potrai anche andare a vincere domenica contro il Cagliari in casa, tutto che tu vinca col Cagliari, vabbè, puoi anche andare a vincere quella ma comunque rimane a meno tre, poi il Cagliari c'è la Salernità, tu invece c'è Juventus, Napoli, il Derby, niente, bisogna farsene una ragione, i punti li hai buttati via prima, ripartire, testa bassa, il pubblico c'è perché il pubblico è dalla parte della squadra, si è visto, penso che non ci sia ombre di dubbio che in questo momento la cosa più bella in questa squadra è il pubblico, sempre presente, che sia a trasferta, che sia a casa, forse a questo punto forse l'unica soddisfazione in caso, anche se ne procedessimo, è provare a portare a casa il Derby di ritorno e poi vedete cosa succederà, ripeto, la salvezza la vedevo già lontana già prima, è vero che sono solo tre punti, ma tre punti dove li fai con il Napoli, con la Juve, non c'è più preziosi, è al comando che fa qualche mastruzzo, quindi quindi niente, che dire, passiamo un'altra partita, un'altra sconfitta, ci rivediamo domenica, Genoa Caglia all'ora e 18 e niente, questo è tutto, sono più deluso di questa sconfitta che di qualche altra partita, non tanto perché potrei portarla a casa, assolutamente, nessuno ha detto che un giro potrebbe portarla a casa a questa partita, ma perché perdere questa partita così contro una squadra che effettivamente non mi ha dato questa impressione di superiorità, fa più male che la partita spersa con la Lazio, veramente, non, bastava poco oggi per portarla a casa al punto, ma proprio poco, 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 invece si è voluto, ma neanche strafare perché non ha strafato, si è voluto, si è sbagliato, si continua a sbagliare e Hafti non ha mai sbagliato la diagonale, stavolta l'ha ceffata in pieno, e poi vabbè Leao l'ha messa proprio bene, bene, però veramente demoralizzato perché è una sconfitta veramente che ti demoralizza, poi ti demoralizza vedere veramente gente come me leggo lì in campo, veramente, quello è proprio il nostro sultra del senza senso, veramente, non ho parole, non ho parole, non ho parole, niente, da Genova è tutto, un saluto da Trattoria Sportiva, ricordate di iscrivervi al canale e cercare di farci arrivare a sti belini di 600, un saluto anche da Mandalorian, che vi saluta, ciao a tutti e che dire, speriamo, non so cosa sperare, speriamo che il Sassuolo faccia la sua parte, ma lasciamo il ma, ciao a tutti da Trattoria Sportiva, alla prossima.